Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo su Infamous nel sesto episodio Signori off screen ho deciso di fare anche le missioni diciamo che si chiamano resa dei conti Praticamente è una resa dei conti col DUP per liberare completamente il quartiere Ragazzi erano veramente delle cavolate, volevo farle con voi in registrazione però alla fine ho deciso di farle off screen Perché se no non sapevo più che cosa fare per andare avanti diciamo un pochino con i punti senza però andare avanti la storia Ragazzi c'è comparso qui un simbolo che voglio assolutamente andare a vedere con voi prima di andare qui al ponte Dove mi sa che dovremo passare questo ponte per passare alla seconda isola Quindi ragazzi non perdiamo tempo, dirigiamoci verso quel simbolo lì rega che io ancora non ho ben chiaro che cosa sia Sto tenendo il potere del neon rega nonostante che posso usare anche il fumo di nuovo Però col neon rega è tutto più overpower, cioè è molto molto più rapido spostarsi eccetera Ok siamo arrivati Allora questo qui è il cartellone quello dove stava la tipa Intanto mi assorbo il neon e lo spengo un po' per non attirare l'attenzione Perfetto Ok vediamo un po' Ok cartellone è spento Eccoci qua rega Allora vediamo un po' che cosa dice Segui le codombe origami insanguinate per sbloccare gratuitamente le missioni bonus e svelare il retroscena della storia del DUP Vai su Infibus per maggiori informazioni Ragazzi proviamo, vediamo un po' Qui siamo all'appostamento della nostra amica che cecchinava Uh guardate Avete visto rega Ancora eccola lì Una tizia direi Oh merda Ok la sento ma non la vedo Oddio Rega questo qui è il potere della carta A quanto pare Ne ho sentito parlare perché in off screen praticamente io ho fatto delle missioni dove parli Cioè più che altro senti delle registrazioni vocali disseminate per la mappa Di un tizio che è anche lui un conduit E praticamente ti spiega quello che fa Ma dobbiamo colpirla? Per di qua Madonna che voce sexy rega Arrivo Arrivo tesoro E praticamente questo tizio qui parla un po' del complotto che sta combinando il DUP E per scegliere il potere del cemento Che loro hanno Ne hanno provati prima un po' di tutti i tipi E la carta era uno di quelli Poi hanno provato anche il vetro Però diciamo che non davano il senso di sicurezza e forza ai civili E quindi hanno deciso di cambiare Fin quando poi è arrivata la tipa Che è la nostra nemica Che ha dato il cemento a tutte le truppe Ok qua Merda oh Rega la sto perdendo Ok eccola Cazzo non è facile seguirla Ma dove cazzo ci sta portando? Fa proprio il suono della carta È fortissimo rega Troppo forte Ok penso che siamo arrivati Esami della scena dell'omicidio Alla ricerca di indizi sui conduit Ok Lì c'è della carta quella finestra eh Ok vediamo un po' Non è fetch Non sembra fetch Non è fetch Wow merda rega quanta gentaglia Ok Ok foto fatte E ora non so Forse dobbiamo scendere Cosa ne dite? Non lo so proprio Allora prima di scendere Proviamo a salire invece di qua Allora un segnalino ci indica giù E secondo me rega E invece uno ce lo indica a questa altezza Secondo me dobbiamo andare là Allora io provo ad andarci Ok come vedete ho imparato anche abbastanza bene ad usare il potere del movimento del neon Che è veramente fantastico Ok Qui vedete che c'è un numero 5 Proprio qui dove c'è La carta Raccogli colomba di carta Perfetto Vediamo un po' Ok l'abbiamo raccolta Ora penso che dovremmo scendere però Allora se scendiamo però da qui ci facciamo stampare in pieno Quindi magari facciamo Merda Ho fatto la cazzata Ok ok me ne vado Me ne vado Me ne vado Me ne vado Non vi preoccupate Me ne vado Me l'hanno chiesto con cortesia rega Ok Adesso ci avviciniamo in maniera un attimino un po' più stealth Ok scendiamo da qua Ok speriamo che magari in questo modo qui non si No niente si incazzano rega Io devo andare a vedere Devo andare a vedere però No ragazzi ma perché vi devo sempre spaccare giù tutti Allora qua Boom Ragazzi mi giusto Giuro che non volevo arrivare a questo Ma cosa dovevi cercare in un maledetto buco Sono qua Altri due fatti Qua ce n'è un altro L'ultimo è qui che si dovrebbe arrendere in teoria Invece no Mi ha tirato una legnata rega Bam Perfetto Ok allora qui mi da ancora una stella Ma non capisco Raccogli prove Allora qui c'è Portafogli di coltizio Ecco portafogli Perfetto Allora seguiamo la stella rega Seguiamo la stella Vediamo un po' Allora qui Ah missione completata Perfetto Impossibile connettersi al tuo profilo online di Paper Trail Riprova la via della missione Paper Trail Ok vabbè niente rega Praticamente mi sa che devo connettermi Devo fare proprio un profilo E andare avanti in questa missione Vabbè probabilmente Se riuscirò ragazzi Creerò il profilo Altrimenti rega me la farò poi una volta che avrò finito il gioco in offscreen Ragazzi ora noi ci dirigiamo verso la nostra stella Che è la missione dove in teoria dovremo attraversare il ponte Andiamo ragazzi alla velocità della luce Eccoci qua ragazzi Siamo arrivati al ponte in un millisecondo La velocità della luce O per meglio dire del neon Allora direi di oltrepassare queste sbarre Questi container Ok E noi mi sa proprio che dobbiamo oltrepassare questo bel muraccio in cemento Che ha costruito quella laida schifosa Quindi assorbiamo il neon che ci danno qua E partiamo Vediamo un po' ragazzi se possiamo passarlo così Sì Oddio che figata Bellissima sta inquadratura eh Ok già ci stanno sparando Pessima mossa Allora ci hanno sparato E noi abbiamo assorbito il fumo Ok Non so come mai ragazzi ma ci hanno dato il fumo Forse per renderci i movimenti un filino più complicati Torrette automatiche Merda ma Ci hanno tolto tutti i missili cazzo Allora raga Stiamo molto molto attenti Questa è disattivata Ok Allora raga io non passo dentro Cazzo l'elicottero io non ho i missili Speriamo che Quei due diciamo Cadavere di torrette Anzi tre che faremo adesso Merda 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 Oh Ok speriamo che ci da Del fumo da raccogliere Aspettate un attimo che mi ripiglio Merda non ci danno nemmeno fumo da raccogliere Perfetto Cioè perfetto un cazzo di niente Ok Allora cerchiamo di essere un po' stealth Qui sopra ce n'è un'altra Perfetto E questa è disattivata Se mi desse il fumo io potrei tirare giù un elicottero Perché almeno è più facile diciamo con i Perfetto giù l'altra torretta È più facile con i missili Raga due tre missili l'elicottero viene giù Manca una torretta che però non la vedo E quindi le cose che non vedo sono sempre Eccola lei Trovata Perfetto C'è problema raga C'è nessun problema Ci facciamo così Oppala E siamo dietro Perfetto Distrutta anche l'ultima Ah già non ho più il neon Con ogni potere che si cambia bisogna ricordarsi un po' i comandi di movimento Allora vediamo un po' Allora vediamo un po' rimangono un paio di omini Dove sono gli omini? Ah sono là Facile dai Bang 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 Ok Ma non è andato giù però eh Adesso gliele diamo raga Mi sbaglio non ci Ok quello lì c'è morto E quello lì pure Boh Raga Andiamo dall'altra parte Qua C'è della luce ma non c'è niente Andiamo dall'altra parte Oppala Fatto Siamo dall'altro lato Cazzo Guarda raga qui sono tanti però eh Ok Allora devo cercare anche di non Merda raga ma se io me la fuggessi Malissimo anche Perché qua Mi vedo tanti e belli agguerriti Sono sincero Bam Non abbiamo neanche la final ovviamente E io me la fuggo raga Me la fuggo male Oddio 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 come ci crepo Ok ripigliati dancing ripigliati Ok ci siamo ripigliati Ma raga io me ne vado Fan culo Sono Sono potenti cazzo Non ho ne final né un cazzo Merda lì c'è C'è Augustine Ti hanno fatto i ponti per starti così sul culo Mi riconosci Ah sì sì E chi è che si scorda di te Un paio di settimane fa mi ha colto in flagrante E mi ha lasciato andare Sei cambiato da allora Intendi la roba del fumo Sì è nuova So che Hai dei nuovi poteri No Hai ampliato il tuo arsenale Non so dove tu l'abbia sentito io Sono solo un povero sparafumo Vedremo Ok Neon E ragazzi nelle rese dei conti Noi praticamente chiamavamo di persona DUP Per rompergli il cazzo E farli venire contro di noi E quindi lei sa tutto Porca troia Qui una final mi farebbe comodo Effettivamente Ok via Assorbi neon Aia Merda rega Ok però l'ho assorbito Eh Ok Ok rega allora c'è un problema Posso correre all'infinito è vero Ma non ho missili né niente Devo assorbire del neon Ah Però cazzo Questo è rapido Sono grossi Più fanno rumore Quando cadono Uh Mamma mia come l'ho inchiappettato Rega qui l'ho inchiappettato di brutto Fammi assorbire Ci ricaricano pochissimo Sti cosi Rega Ok Ci siamo Bam Aia Bastardo Ma questo va sottoterra Oh Non posso commencerti A farti buttare giù Vero No A quanto pare Sarebbe proprio di no Bam Rega non è per niente facile eh Oh ho preso Qui l'ho preso Sì Rega L'ho preso per forza Merda via 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 Ok qui è spento Cazzo però Oh Dov'è Merda Proprio vicino Fam Non sta fermo Rega Devo assorbire neon Aia Devo assorbire neon Rega Ok Già ci siamo Boom E ma che cazzo Continuo a rifarle Bam Oh Merda Eh qua mi ha preso Qua mi ha preso secco eh ragazzi Qua mi ha preso secco Sì Ricaricami Ah ok Però comunque la vita sta andando giù Lì in alto c'è il segno Il segno Il contatore Diciamo così Via 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 Rega No 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 Sta lanciando troppi di quei cosi Ci fa del male Merda Eh raga qua è durissima eh Allora qua è durissima L'ho preso Mamma Dai che ci siamo quasi eh Oddio ce l'abbiamo fatta forse Perfetto Ce l'abbiamo fatta Uh Alla faccia Ok forse ho un po' mentito sulla questione dell'Eon ma Potrei farci risparmiare un sacco di tempo Devo solo Assorbire un po' del tuo potere tutto qui Mi stai chiedendo di regalarti il mio potere? Beh no Non tanto da innavissare un ponte ma Abbastanza da togliere le tue lame di cemento dai miei amici Solo questo Perché non mi rivedrai mai più Io ho un'idea migliore Eh Figuriamoci rega Non mi saresti d'aiuto là nella tua baracca Perché non resti qui? Merda rega No preferisco la mia idea Ti sta cementando da dio E però Delsin anche tu Non sei furbo Ha sui guanti la puttana Mi deludi E quindi non possiamo frottergli il potere Cazzo è successo? Merda rega Mi sa che ci ha completamente cementato Qualcosa ci sta trasportando Quando mi sbaglio Oddio ho perso un pezzo Rega Siamo molto in alto E secondo me Dio santo Qualcosa ci sta trasportando Non siamo legati ad un elicottero Ok Quel qualcosa ci ha rimesso giù Allora Siamo in una specie di Chinatown Eh ragazzi Siamo in una specie di Chinatown La Ecco finalmente la mia meta Vedo dei nemici Merda rega Ma dove cazzo siamo finiti? Non ho idea di dove siamo finiti rega Allora facciamo continua Potenzialmente non ne posso mettere ragazzi Stavolta perché Ehm Ho soltanto un frammento Allora io direi Andiamo innanzitutto a vedere Che cos'è quel nuovo simbolo Che c'è là Lì vedo un pugno Merda E quelli che cazzo sono? Ok Allora la situazione non è delle migliori Effettivamente Quelli sono nemici Mi sembrano anche abbastanza potenziati Allora io dovrei fare una cosa Per un obiettivo Ragazzi Dovrei passare dentro a due di questi canali qua E' già ovvio Non ho il potere del fumo adesso Beh Bam Ok li possiamo colpire con la catena Aia cazzo Via 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 Eh mamma mia rega Via Ok rega Sono salvato più che al pelo eh Qua sono belli cazzuti come misure di sicurezza A quanto pare Bam Bam Non viene giù Ok uno è giù Che tacchi al cazzo tiro elicottero Dammi il fumo Fumo Ok Lasciamogli sparare le sue bombettine di merda Boom Bam Perfetto Madonna Eh rega Qua è dura eh Qua è dura raga È durissima Allora Non so nemmeno dove poter mettermi Per ricaricare la vita Merda qui c'è un centro di controllo del DUP Che dire che è cazzuto è dire troppo poco Allora Signori Anziché andarci a fare un'altra missione Andiamo a distruggere quel centro del DUP Merda Questi qui si fanno gli scudi Ok vai Basta Adesso rega Gliela faccio vedere io Guardate che cazzo hanno creato Con sto minchia di cemento E adesso E adesso bro Che sono qui Sei giù eh Aia 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 Ok Rega Con molta molta calma Penso che Aia Oddio Per un pelo Non siamo finiti in acqua Minchia che botta Rega Pam E muori Rega Non ci sgrepa Ok Forse è fatto È fatto Questo è fatto Qua c'è un altro Qui le gambe Come vanno Ok Perfetto Abbiamo ancora questo potere Che è buono eh Allora Le telecamere Dove cazzo sono le telecamere Non le vedo Vabbè dopo Allora Raga qua Non è Non è facile eh Beh Eh Rega Sono Sono ovunque Sono letteralmente ovunque Non è Un modo di dire Ok Questo è andato Figa se Ci hanno provato a colpire Con una di quelle bombe Ok E ok Bam Ok perfetto Rega Qui ci siamo arrivati E Arriviamo anche di lì Eh lo so rega Qui ho preso una botta Via Ok rega Allora abbiamo assorbito il fumo Anche se Mi trovo meglio con i movimenti del neon Se devo essere Onesto Perfetto Giù le telecamere Giù le altre Lì Ok Lì glielo abbiamo dato una bella lezioncina Allora raga io Devo andarmi a prendere Il neon Una scritta Mia Era piccolina però Me ne servono altre Aiutiamo il passante E torniamo a combattere Bam 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 Un altro è andato Ne manca uno Perfetto Fatto Allora qui ci sono delle munizioni Quindi stiamo attenti E distruggiamole Perfetto E qua si è distrutto qualcosa Assorbi C'era No non c'era Ah no Assorbi fumo Distrutto Ok Forse ragazzi Qui bisogna distruggere questi Anziché I centri di controllo mobili Ve li ricordate Quelle specie di furgoni Che avevano all'interno Quella roba Luminescente Che prendevamo a cazzotti Ok Distrutto un altro Dovrebbe esserci ancora uno Eccolo qua Perfetto Ok Distrutto tutto E infatti Ragazzi Perfetto Eccoci qua Beh Vieni sollevato Ok Perfetto Non so come mai Non me l'aveva fatto Pam E ragazzi Qui gli abbiamo Gli abbiamo tolto Un bel centro di comando Eh Qui Ci aveva sprecato Un botto di risorse Per crearlo Ok signori Comando del DUP Noi l'abbiamo distrutto Ho assorbito il fumo Anche se non volevo A dire tutta la pura verità Ragazzi Devo assorbire i frammenti Tutti questi frammenti Ragazzi Andranno a potenziarci Eh Perché sicuramente Sbloccheremo Sbloccheremo nuove cose Che Dovremmo potenziare Ok Vediamo un po' Ragazzi Come siamo messi Con i potenziamenti Richiede otto frammenti Sti cazzi Però l'ultima cosa No non è vero Ce ne manca anche una qua Che ne richiede due Ma è ancora bloccato Ok Mentre di qua Il fumo Ragazzi L'ho praticamente Completato Le cose rosse Richiede karma negativo Io ragazzi Non lo sto facendo Le farò poi in off screen Perché Devo ricominciare la carriera E fare il cattivo E quindi ci siamo Ragazzi Per il momento Dobbiamo soltanto raccimolare Un altro paio di frammenti E abbiamo fatto Lì Ah già Non ho Merda Qui Sarebbe stato un po' Utile qui il neon Allora Vediamo Perché Uh Ecco Lì c'è Un drone fermo Ragazzi Andiamoci a prendere Sto frammento Che figata Può anche girare Non lo sapevo Ok Puff Frammento per noi Intanto io ancora Non ho Non ho ben capito Che cos'è quel lucchetto Non l'ho ancora Ben sbloccato Però vabbè Poi ci penserò Raga Ok Allora Quaggiù Chi è che mi spara Quaggiù ci sono altri nemici Raga Però per il momento Noi signori Chiudiamo Voglio vedere Se mi dà quel lucchetto lì Per vedere giusto Che cos'è Ah ok È la gabbia È la gabbia La voglio andare Voglio andarli a liberare E mi fai scendere Per favore Fammi scendere Che cazzo Ok Liberiamoli ragazzi Via Boom Boom Di qua sono più cazzuti Comunque Bam Questi qui creano Anche scudi Di difesa Cioè Sono proprio Dei bastardi Però Noi con i nostri poteri Si è messi Abbastanza bene Porca puttana Devi morire Ok Rega Questo è andato Liberiamoli Ne manca uno Dov'è Dove cazzo è il finocchio Ah vuoi dirmi che è salito Si che è salito Eccolo qua il finocchione Finocchio Vieni qua E allora Mi prendi per il culo Cioè io salgo Tu scendi Niente rega L'ultimo non lo trovo Signori Spero che questo nuovo Incredibile video Mamma mia Quante macchine Io dovrei distruggere Cinque macchine In cinque secondi Per fare un obiettivo Ragazzi Io provo ad usare Una final qua in mezzo Ovviamente Mi darà del karma negativo Ma Pazienza Vediamo un po' Se riusciamo a farci L'obiettivo Non mi uscirà La scritta ragazzi Perché ovviamente Le scritte le ho bloccate In alto Perché Pam Perché altrimenti Mi uscirebbero gli inviti Dei miei amici E cose del genere Ok Però comunque Ragazzi Il nostro bel macello Lo abbiamo fatto Mamma rega Non vedo l'ora Di farmi poi La carriera In karma In karma negativo In karma Da cattivo Cioè Spettacolo Allora Il lucchetto Abbiamo capito Che era quello lì E ci siamo Io volevo vedere Che cos'era Quell'affare Quel pugno Che non sono riuscito A vederlo Allora Il pugno Il pugno Il pugno Andiamo giù Forse è giù rega Oh Mi serve un'ambulanza Cura Assolutamente sì Sospetto salvato Ah ok Tutto qua Signori Come stavo dicendo Io spero che questo nuovo Incredibile video Su Dio santo Su Infamous Vi sia piaciuto Nel caso vi sia piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Io come sempre Signori vi saluto E vi ringrazio tantissimo Se non siete iscritti In canale Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi Qui del vostro Garo Brutal Un salutone Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti